Ciao, sono Matteo e do un saluto a tutti da un progetto di noi e gli altri. A quale progetto partecipi? L'associazione delle bollicine che si sta facendo un orto a noi, insomma un progetto di altri. Ti iscriverai a Similia? Sì, a voglia. Mi iscriverò a Similia oggi. Bene, in bocca al lupo. Grazie. Che stai facendo? Mi sto iscrivendo a un nuovo social network che si chiama Similia e ora sto combinando un link su Facebook e poi andrà su Similia. Grazie. 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 Grazie.